Se l'aiutare le imprese è in un momento di grande difficoltà, con certamente difficoltà di accesso al credito che sono ben note a tutti. Il credit crunch che noi avvertiamo probabilmente è molto più avvertito che il reale, però comunque c'è. Ed è dovuto oltre che a una difficoltà generale del sistema, anche ovviamente alle norme europee che hanno limitato molto la possibilità di accedere al credito. Quindi benvenga un accordo con Banca del Mezzogiorno, Medio Credito Centrale per creare un canale preferenziale per le imprese associate per accedere al credito, soprattutto all'acquisto di beni strumentali e alla legge Sabatini. E quindi vediamo proprio con favore questa iniziativa.